Questo fa, uno, due, tre, qui, non cerchi già di fare questo qua, vai anzi, in modo tale che tu stia ancora così, ma non c'è idea, da qua, io devo cercare di evitare di fare da qui già questo, perché se no tu mi pieghi già così e succede poi tutto, invece dovrebbe essere che quando vai a fare questo qua qui anche se potrebbe, uno, due, qui come se da qui tu stai ancora alto e da qui, mi riprovo, tu stai andando qui, va, sei bella da qui, esatto, 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 da qui cercare di andare tutto sulla tua stessa linea, quindi quando la porta di andare più di un mezzo passo in progno, ma è bella che è questa mia, e qui ti ritrovi già sulla tua stessa, cioè non finire così, questa qua scusa, questa deve essere pronta a fare appagher di qua, fermarti prima e poi da qua, stop, che può capitare, no, che tu hai bisogno di fare la stessa che quando vai a fare questo da qui, entri, fai quest'altra, aspetta che solo, eh lo so, meglio per me, faccio questo qua, entri completamente qui, questa cosa, questo qua, muro, da qui, mi attiri questo qua, muro, da qua, sembra che lo attacchino, invece, questo qua, mi attacchino, mi attacchino, mi attacchino, mi attacchino, mi attacchino, e questo qua, un colpo, da questo tipo di sbilanciamento qua, no, devo farti, adesso qui, lui lo fa, la pieza giacquette Vedi questo qua, no? Vedi questo qua? Cosa? Senza farla finta, sennò perdi tempo Senza farla? Eh... Più... ... ... ... ... ... ... было ... ... che ho fatto è che io posso prendere e per sicurezza mia magari non voglio espormi così tanto, poter pensare di poter fare questo ancora col peso indietro, cioè dovrei sapere partire anche col peso indietro, comunque c'è capito nel senso, allora questo è proprio il caso, quando lui mi attacca e io vado a fare questo qua, io non posso adesso pensare di fare questo, no ma poi ci metto tempo perché c'è tutto questo frangente, allora vado vado a fare questo qua, no, cioè vado a fare un po' più, no, hai mai preso indietro? sto ancora indietro, non è già questo qua, anche perché ne so come è andata la situazione, quindi vado a fare questo qua, scusa, no no, stavo volando andare in tacca, è il ritore, ah è proprio preso qui, no no, sì sì, quindi vado a fare questo qua, mi mettono, però non stavo, se no, guarda, questo è quello che ho massima potenza, non posso dire, però questo qua, vado a vedere, questo qua, vado a vedere, rimango col peso indietro, comunque c'è tutto questo, capito, vado a vedere, rimanendo il peso indietro, da qui posso anche tirarne un altro, capito, se lui mi attacca, no, mi immagino, quando la fai, uno, hai capito, c'erano due, perché uno è tirato con la cinetica, l'altro con il peso, c'erano due caricati, esatto, 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 che ti fa rendere anche, vedi come si aggiusta tutto meglio, esatto, esatto, così, bene, bene, sì, e sì, perché finalmente ah ok, questo è ok Così meglio? Sì, 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 sì.